Buongiorno e buonasera dal vostro azzurito ragazzi e ragazze ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Sestiria E finalmente dopo qualche giorno, anche no Per poco non arrivavamo nel 2016 per continuare questa fottuta serie mamma Ma alla fine ce l'abbiamo fatta, adesso ci stiamo dirigendo a Pendrago per incontrare Serghei E come suona male, lo so benissimo Accidenti, Pendrago è enorme No, è solo la capitale dell'impero di Roland, nonché la città più grande di tutto il continente Come dire, l'acqua è bagnata, il pape è rolanciano E non ce l'ha fatta neanche un cacchio E questo si vuole accoppiare con me? No, no, oggi niente salsiccia Oh mio Dio, che se sono preso un raffreddore? Eh, che è una cosa virale Sono anche petulanti Vabbè, mica sono proprio alieni Oh che, una puzzola Ah, moffetta Vabbè, è sempre uno che puzza Sento puzza di guai Un nemico persistente Che battuta del cavolo, eh Comunque, visto che Edna ha preso il raffreddore Mi offrò volontario per fargli soffiare il nasino sul mio vestitino Oh, sono il feticista del muco, eh Una cosa nuova e giusta E siamo arrivati in questa fortissima città Con l'appuntamento con Sergei Che suona anche male la pronuncia Eh, basta guardare sulla mappa, sarei Che è una fontana? Trovate un nuovo punto di interesse Fontana della piazza La fontana dell'ira Sempre pungente stronza Per questo l'amo Perché va facilmente in rage Ah, quindi fa schizzi forti Cazzarola I piedini di Edna Fenomenale Fenomenale Vieni qua che ti asciugo i piedini Non sono il feticista dei piedi, sappiatelo No, se no Tutte le mie fan si disiscriveranno Ah, siamo giunti all'appuntamento Sotto la pioggia Oh no Iniziamo bene Aia Avrò fatto male Sì Non l'abbiamo visto sotto forma di lucertola Oh madonna Ma è fissata Edna Con la penetrazione Eh, non ha tutti i torti E che è un criceto Siamo Alla prossima! E lui dice pure già Sono sposati Senza saperlo Ehi Michlio Niente più salsicce per te Ormai Sore è passato alla patatina fritta In fondo rosa sei una ragazza Dal cuore tenero E che è? No è che qui da solo Rischiamo di prendermi un raffreddore Secondo me il cuore è talmente tenero Che si taglia con un grissino Che battuta squalleta Si può parlare ancora Come facciamo a riconoscere la torre dei cavalieri E mi metto a dormire un po' raga Così vedremo qualche scenetta Pomodori al forno Cetrioli Sembra quelli che amano Michlio Stufato 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 alla dragonesca Che è il famoso stufato alla dragonesca di Pendrago Da assaporare lentamente per apprezzarlo appieno Cazzo Mangiamoci questo E nessuna scenetta Ho soltanto buttato soldi nel cesso Vabbè almeno abbiamo la panza piena Questa città non mi piace per nulla Spero che poi più avanti toglieranno la pioggia E finalmente Adesso inizio l'appuntamento con Sergei Oh mio dio Eh che ti pareva Eh ma siamo in pubblico eh Non è che poi si scandalizzano Non abbiamo nulla da nascondere Oh cazzo sarei Eh Le vuoi proprio traumatizzare i miei scritti Dai Michlio che provi gelosia per la nuova mogliettina Dai Chiudi quelle pacche del culo Eh voglio dire chiudi la boccaccia No ragazzi scusatemi Vabbè sempre di buco si parla Oh bello venuto da Redna Che è l'unica che sta seduta Ma la prima pena mangiare Ah fratello Michlio ma perché sempre sta faccia incazzata Eh che cazzo Prenditi una camomilla Ora cerca di riposare Boris è il gemello minore Oh cazzo Sarà la versione senza muscoli E forse con più cervello Ma si spera Corroso ci sta un nuovo dialogo Sergei mi sembra una persona a posto Ah hai capito adesso bisogna ritornare alla locanda Ho buttato soldi veramente nel cesso Ma c'è qualcuno che vende la fottutissima mappa Quel cavolo di tedesco testuggine Oh Michlio mi ha preparato la torta al formaggio Fenomenale Fenomenale Impasto di zucchero Uovo e formaggio cotto al forno Quindi conservati in luogo fresco È un impasto di zucchero e formaggio cotto al forno Michlio mi devi spiegare dove cazzo prendi questi ingredienti No eh ma lo devi dire Sicuramente l'uovo dal culo Poi bisogna scoprire lo zucchero e il formaggio Il formaggio fresco latte Ok ho capito già tutto Ha tradito le testuggine Non possiamo perdonarlo Perché sto parlando così? Che hai detto nascondere la testa nel guscio lì Eh compriamo la mappa Come sta piovendo da un anno? Eh la mano davanti alla bocca rossa Non farà la maleducata La monellaccia Edna dove è andato a finire tutto quel cibo? È un po' di mezzo Sono un po' di mezzo È un po' di mezzo E' un po' di mezzo È un po' di mezzo È un po' di mezzo Sensive Sensive Sensive? Lozè Sono delle gildi di rispondimento? Eh E' Eddyez Sì, è vero, è vero. Noi, prima era un ragazzo, era un ragazzo, come si chiamavano l'Unione Unica. Oh... La mano davanti alla bocca! Sì, prima di dormire. L'azzo ragazzo, è un ragazzo di ragazzo? L'azzo ragazzo, è che sto accendo Chuck Norris qua! Ah, è un ragazzo, era un ragazzo. È un ragazzo molto forte! È un ragazzo, però è un ragazzo. 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 Ma... è un ragazzo. 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 Questo non è un ragazzo. È un ragazzo. è fissato con lei è andata da sola porca miseria perfetto ragazzi ragazzi è questo punto di concludere questo episodio spero che vi sia piaciuto lo voglio concludere su più bello lo so che non sarà molto duraturo però ragazzi purtroppo adesso con i miei nuovi impegni attuali vi dovete accontentare di video non molto lunghi detto questo vi saluto voglio concludere il video in bellezza voglio baciare i piedini di Edna bagnati dalla fontanella suona veramente molto creepy lo so lo so detto questo se volete commentate e alla prossima ciao ciao